A sentire le interviste di Matteo, anche del passato, oltre alla totale adesione al programma politico e giudiziario dei 5 Stelle, quindi un'affinità di visione, c'è anche in tempi più recenti l'intervista in cui lui dichiara che le correnti nella magistratura sono come la mafia, dichiara che la trattativa Stato-mafia è stata coronata da una sentenza, peccato che sia una sentenza di primo grado, come è capitato in tante occasioni, non certa, quindi non c'è una sentenza definitiva, però lui è contento di questa soddisfazione e vive nella ossessione della trattativa Stato-mafia, tanto che se vogliamo guardare le cose sugli elementi di prova che egli ha portato per incriminare Mancino, assolto, per incriminare Carlosio Romannino, più volte assolto e poi per far coordonare il generale Mori, persona che avrebbe agito evidentemente per conto suo, non ci sono i mandanti politici, se dobbiamo guardare a quegli elementi che aveva per la trattativa del 92, dobbiamo dire che quella di cui parla oggi, autoconvocandosi da Giletti, un luogo di straordinaria importanza per le dichiarazioni di un magistrato membro del CSM, evidentemente anche questa è una trattativa, cioè Bonafede, e questo dice, è stato influenzato da intercettazioni, si può ricavare, che indicavano la volontà della mafia di non volere di Matteo. Ma non è una cosa peraltro misteriosa, perché un giornalista attento, come Salvo Sottile, tutto quello che abbiamo visto questa volta, che è apparso in televisione, in questa irruzione improvvisa, forse premeditata, forse determinata da una necessità di parlare dopo due anni, circa due anni, con il ministro costretto a rispondere, quindi colpo su colpo, e questo uomo cittadino di tanti paesi, di tante città, non ha avuto la prudenza di aspettare di essere chiamato o di invocare o convocare una conferenza stampa, ma con irruzione formidabile è entrato della trasmissione, è spazzato via il coronavirus e ha posto il suo problema. Il suo problema, non mi hanno dato quello che ho chiesto, come un bambino cui è sfuggito quello che voleva. Naturalmente in tutto questo c'è la consultazione, come accadde a quello che lui dice quando andò a parlare con il ministro per la seconda volta, con la famiglia. Prima di decidere devo parlare con i miei familiari, come fa chiunque che assuma un incarico, parla con la moglie, con i bambini e dopo l'intervento formidabile l'irruzione a non è l'arena di Giletti, lui, o dice lui stesso, si è consultato con la moglie che lo ha chiamato e gli ha detto è andata bene Nino, erano tutti dalla tua parte, questo gli ha spiegato la moglie. Ma lui già in quel momento non ha avuto dubbi, vedrà anche tra due giorni una frittata si rivolta. Si rivolta perché non c'è nessuna frittata, c'è un comportamento non dignitoso di un membro del CSM presieduto da Napolitano che irrompe con una telefonata in televisione per parlare di fatti suoi. E d'altra parte lo ha detto in maniera perfetta un grande magistrato che si chiama Armando Spataro, che sulla stampa, dove oggi ancora parla di Matteo confermando tutto e dicendo non ritratto niente, è esattamente così, Spataro ha detto non è questo il comportamento di un magistrato, non è quello che deve fare un membro del CSM, non è questo l'organo giusto, non è una televisione commerciale. E lui cosa rilancia contro Spataro? Come se avesse avuto la soddisfazione di una condanna nel primo quadro, di una condanna che ha avuto il generale Mori, che è come la vittoria della sua vita. Lui ha combattuto finalmente contro l'omertà politica e è riuscito a dimostrare la trattativa Stato-Mafia. Cioè quello che oggi era avanti con i suoi 5 Stelle che hanno visto Morafede intimidito e quindi nelle condizioni di non poter nominare di Matteo perché non gradito la mafia. Più trattativa di così, solo di questa volta c'è un protagonista che non è un generale, è il ministro Morafede, il suo ministro che lo ha preso in giro, che lo ha ingannato, che lo ha trattato male secondo lui e che soprattutto è stato condizionato dalla mafia. Quindi apri un altro processo ed è evidente, la vera trattativa è questa, non quell'altra. Qui abbiamo gli attori giusti, la mafia, il ministro intimidito, la vittima che è il grande magistrato antimafia. Il quale rimprovera a un suo collega straordinario che ha sempre avuto una grande consapevolezza del suo ruolo e della sua dignità, proprio lui, Spataro, che quando io portavo avanti l'indagine sulla trattativa Stato-Mafia sosteneva che il processo non andava affatto. Aveva ragione, poteva sostenerlo o non può parlare Spataro, non può dire che questa inchiesta è basata su nulla, su dei teoremi, teoremi che incriminano un generale straordinario, lo condannano per aver agito per conto suo, con quale interesse e trattando per chi? Per se stesso? Come era possibile? Allora è evidente che non è consentito ribellarsi a Di Matteo. La sua autorità assoluta e i suoi 5 stelle che lo hanno sempre sostenuto gli dicono vai avanti, vai avanti. E uno gli dice ma per fare un processo di questo genere occorrono negli elementi. Infatti nevancino necalogero Mannino, che sarebbero stati gli obiettivi grandi, cioè i politici, sono stati condannati. Quindi chi può dire che fosse giusto fare quel processo, che ancora è solo al primo grado. Allora in questa intervista Di Matteo, per far capire che non era un imitatore quello che parlava come sarebbe stato più giusto e più bello, dice che quello che ha detto va è assolutamente confermato. I fatti sono quelli e non sono pentito di averli raccontati. Ricordo tutto nei particolari. Per me è stato un episodio indimenticabile e non c'è nessun equivoco. Conferma tutto. Ma perché lo dice adesso? Perché non l'ha detto allora? Dice ma allora non si poteva dire? O allora c'era un patto con il ministro? Quindi con un ministro condizionato dalla mafia tu tratti? E dopo due anni parli? E abbiamo una prova. Una prova che mentre dà il senso della legittimità di Spataro, di criticare un comportamento così irregolare, così privo di rispetto istituzionale per il CSM, che con il suo presidente dovrebbe sanzionare questo membro. Io farò l'interrogazione parlamentare per chiedermi se è possibile che uno del CSM intervenga alla televisione privata di Giletti convocando ed evocando il ministro. Ebbene, il 27 giugno, pochi hanno fatto forse questa ricerca, del 2018, un giornalista molto attento, specialista di tante cose ma soprattutto dell'uso della ragione, dice così i grillini mollano il loro eroe di Matteo. Né ministro, né sottosegretario, né al posto di Falcone, né al capo delle carceri. Sapeva tutto. Quindi che cosa ha rivelato di Matteo? Soltanto il suo astio personale. Ha voluto apposta incriminare per qualche ragione, per una resa dei conti, il Bonafede, che già aveva dato allora la prova di non sostenere, non si sa quale necessità, come se fosse il primo magistrato del mondo, per un processo che giustamente Spataro non andava fatto. Perché mette in discussione la ragione di Stato, non la trattativa. Cioè che uno Stato a rischio o minacciato dalla mafia prenda una decisione piuttosto che un'altra, perfettamente legittimo. La trattativa è adesso venuta fuori quando Bonafede non dà quel posto di Matteo. Lì abbiamo un ministro condizionato dalla mafia. Qui c'è trattativa Stato-mafia. Il ministro deve difendersi fino in fondo dalle accuse di un magistrato che usa un metodo, lui parla dei metodi che usano gli altri magistrati, lui usa un metodo che è quello del sospetto, della incriminazione del ministro, di farlo sentire debole e intimidito dalla mafia. Il primo istinto, dice Giuseppe Sottile, scrivendo il 27 giugno 2018, sarebbe quello di cedere a un'innocente volgarità e dire con la crudezza imposta dalle cose che l'hanno preso per il culo. E questo lo diceva già allora. Non c'era bisogno di correre dopo due anni con il fiatone da diletti per rivelare una cosa già conosciuta. Ma una frase così aspra finirà il personale riverente, quella che l'ha preso per il culo, e qui dice «Gli ultimi dieci anni ha collezionato trionfi, l'odio, ovazioni, ha creduto nella trattativa dell'uscita dal Pubblico Ministero a ottenere dalla Corte di Assisi una sentenza che infligge pesanti condanne ai boss, ma non ai politici. Ha colpito i due carabinieri e i boss, ma non ha colpito di fatto… Andate a aprire questi… Pronto? Vai a aprire, stanno suonando, stanno qua sotto, dove sono? Stanno a me, perché vengono qui. Non c'è bisogno. Quindi ha ottenuto soddisfazione. Con questo, secondo lui, ha legittimato la sua inchiesta, tanto da fargli dire che Spataro non poteva criticarla. Ma perché? Spataro, che conosce bene gli elementi, ci ti manca per la trattativa un elemento fondamentale. Lo Stato. Lo Stato non c'è. Nessuno condannato. La trattativa Stato-mafia è stato condannato un carabiniere, due carabinieri, che hanno agito per conto dello Stato, di cui non abbiamo individuato, né con Mannino, Calosero Mannino, né con Mancino, nessuno che abbia indicato o indirizzato verso la mafia, che quindi avrebbero agito così, per loro iniziativa, i carabinieri. Anche il più amato, almeno 120 città piccole e grandi gli hanno conferito la certidanza onoraria, per il disonore di avere detto che lo Stato e quindi anche gli organi periferici avevano trattato con la mafia. Quindi onoriamo chi ha detto che lo Stato ha trattato con la mafia. L'ha detto bene un grande deputato e un grande avvocato che si chiama Millini, che ogni volta, uomo di età molto avanzata, nei limiti della sua energia, ha detto in tutti i modi la ridicolaggine di queste cittadinanze. L'eroe di Nino Di Matteo è stato incredibilmente e cinicamente turlupinato. Quei magliari dell'Unimento 5 Stelle, che poco meno di un anno fa lo avevano addirittura indicato come futuro Ministro della Giustizia, al momento decisivo lo hanno posato. Posato, dice Sottile. Gli hanno preferito il politico Buonafede, legatissimo a Luigi Di Maio, un uomo riapparato. E quindi? Ma Turlupinatura non si è fermato alla stazione romana di via Renolo, nel posto di ministro. Ha continuato a girare inesorabile come una giostra, con tutti i cavallucci luccicanti su quelle di Matteo avrebbe dovuto e voluto salire, ma all'ultimo momento non è salito perché a ogni salto ha trovato il cavalluccio già occupato da altri precedenti. Tutto chiarissimo. Chi l'avrebbe mai detto? Nel luglio dell'anno scorso, quando Beppe Grillo lo indicò come l'uomo ideale per guidare e attuare il sistema giustizia ipotizzato da Le 5 Stelle, il PM della trattativa era destinato a una carriera inarrestabile, a una cavalcata, e oggi mostra tutta la sua delusione, impetuosa lungo il crinale che tiene insieme il potere politico e il potere giudiziario. Invece quei fanfaroni del Movimento Grillo gli hanno riservato una carriera a scendere anziché a salire, perché a ogni promessa è seguita puntualmente una crudelissima marcia indietro. Tutto perfetto, la marcia indietro che lui ha denunciato era già chiarissima e sottile. Ripercorriamolo allora questa carriera all'incontrario. Potrebbe anche dimostrare che il dogma populista dell'uno vale uno non accetta gli eroi, nemmeno dopo averli utilizzati come strumenti di propaganda per ottenere voti e consenso. Fallita la nomina Ministro Guarda Sigilli, i puri e duri dei 5 Stelle avevano dato per scontato che Di Matteo sarebbe stato nominato quantomeno sottosegretario, con il preciso scopo di sostenere e valorizzare l'impegnativo programma di Bonafede. Ma anche questo sogno è svanito, come si dice, nello spazio di un mattino. Salvini e Di Maio, due uomini forti del governo, preseduto da Conte, hanno preferito piazzare nelle stanze del potere ministeriale i loro fedelissimi e evitare così qualsiasi incognita. Ma il nome di Di Matteo è rimasto sempre comunque a gallo, al punto che il furbo Bonafede, per non deludere l'ala giustizialista del Movimento, ha addirittura ipotizzato per lui l'incarico che fu di Giovanni Falcone, la direzione della giustizia penale, che oggi Martella ci dice essere un posto di seconda fila rispetto agli affari generali. Nessuno al momento è in grado di sapere se Bonafede abbia ritenuto opportuno e doveroso spiegare a Matteo le ragioni della sua scelta. L'unica certezza finora è che il magistrato più minacciato, applaudito e scortato d'Italia ha vissuto una favola rovesciata e rimasto a piedi come un bambino abbandonato alla fermata del bus. E poi sempre lui, sempre Giuseppe Sottile, indica in maniera molto precisa che gli è stato proposto anche il DAP. Quindi se noi andiamo a riguardare quella pagina troviamo che l'ultima proposta è stata quella del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Quindi sapeva tutto il 27 giugno salvo sottile. Che novità c'è adesso? Se non il rancore, il tentativo di una resa dei conti, la volontà di sputtanare un ministro approfittando del fatto che si è incartato sopra quelli liberati dal carcere, magari con il 41 bis perché minacciati di essere presi dal coronavirus. Approfittando di questo momento dopo due anni è uscito. Ora io mi chiedo cosa fa il Presidente della Repubblica? Intende tacere sull'azione così rancorosa di un membro del CSM? Possiamo affidarci di un uomo che dopo due anni ha ancora tanto rancore verso il suo ministro? Che è anche il suo ministro, il quale gli ha proposto tutto e non gli ha dato nulla. Quindi sono i 5 stelle ad avere mortificato il loro beniamino. E lui ovviamente scarica su Buonafede una responsabilità condivisa. Ma in tutto questo l'idea che un membro del CSM debba portare tanto rancore, come fa a legittimare il magistrato che non ha agito in nome della verità o dei dati di fatto, ma in nome di una teoria a cui tiene tanto che non consente neppure a Spataro di dire che quel processo non andava fatto. Non andava fatto! E quando sarà, come io credo, smontato in secondo grado e gli sarà tolto quindi il giocattolo di una vita, cosa farà Di Matteo? Dovrà immaginare di ricominciare, come capita in tanti casi non volendo mollare la preda, come scavitato con Calogero Mannino processato 20 volte, di riaprire la trattativa avendo come riferimento quello che più di tutti ha subito, secondo lui, l'intimidazione della mafia. Il ministro Buonafede, un politico dell'area politica che lui ha guardato con tanta ammirazione. Allora la trattativa qui si apre. Questa è la trattativa. Qui ho gli elementi. la mafia in carcere che non vuole Di Matteo e il ministro che l'ascolta. Questa è la trattativa. Questa è la trattativa. Questa è la trattativa. Dell'altra è legittimo discutere e vedremo come finirà.